Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Vi auguro una buona giornata dopo quanto è accaduto nella giornata di ieri, quando su Fano veramente è accaduto di tutto, insomma è precipitato il cielo, nuvoloni, pioggia, allagamenti, insomma veramente difficile anche raccontare quanto è accaduto. Per fortuna, a parte qualche danno, però non si sono verificati problemi alle persone, questa è la cosa più importante. Oggi è martedì 6 giugno 2023 e vediamo subito chi si festeggia nella giornata di oggi. È San Norberto, eccolo qua nella grafica, lo vediamo. Nacque a Saint-Hen, una città della Francia, nel 1086. Dopo una giovinezza di agi e di vanità, capì che la vera felicità si potesse trovare nel seguire il Vangelo. Si fece quindi sacerdote, seguì la regola di Sant'Agostino e fondò la congregazione dei preemostratensi. Partecipò poi al concilio di Reim nel 1131 e contrastò in modo particolare lo scisma dell'antipapa Annacleto. Morì nel 1134 per una malattia che lo tenne infermo per quattro mesi. San Norberto è un di carattere, diciamo così, conventuale, non dico eremitico, ma conventuale. Con la sua predicazione riuscì ad avvicinare molti fratelli ma a convertire anche molti, molti cittadini. Ed ora vediamo le previsioni del tempo. Il tempo si sta riassestando dopo la tempesta di ieri, proprio su Fano si è verificato un grosso temporale con allagamenti, poi vedremo i risultati sui giornali questa mattina. Nuvolosità in regolare con acquazioni o temporali in formazione dal pomeriggio sull'Apennino e in sconfinamento verso le coste. I venti sulle coste espireranno con una tensione debole da ovest-nord-ovest, mentre nell'interno da est-sud-est. Le temperature sono leggermente calate, le minime 14 gradi, le massime 23. Il mare questa mattina è leggermente mosso, insomma sembra che il temporale ormai sia lontano, si sia placato. Vediamo ora le notizie che appaiono sui giornali a partire dal resto del Carlino, dove l'apertura ovviamente è dedicata a quanto accaduto ieri per l'acquazzone, una vera e propria bomba d'acqua. Strade come fiumi, spunta addirittura un gommone in via Pisacane. Via Pisacane è un tratto urbano della statale adriatica vicino alla stazione ferroviaria al termine di una discesa, quella che unisce il centro città con viale 12 settembre e quindi l'acqua lì precipita, va giù e si forma una grande pozza nell'incrocio con via Pisacane, tra viale 12 settembre e via Pisacane. È stata questa la zona più colpita dal temporale di ieri pomeriggio, sott'acqua anche la stazione, tanto che una signora, racconta Anna, dice era difficile raggiungere anche i binari. La biglietteria della stazione era chiusa, c'era solo una signora dell'edicole, quindi non si poteva nemmeno chiedere delle informazioni. Soliti problemi, poi a Lido, dove si è allagato Piazzale Amendola, nonostante che fossero entrate in funzione le pompe che sono state realizzate nel sottosuolo, disagi anche nelle scuole, ma oggi ci saranno lezioni regolari. Dunque, via Pisacane. Via Pisacane ha visto allagati gli scantinati, ma anche le aziende. Fanogomme, per esempio, è una di queste. Vediamo qui le foto che appaiono sul giornale. Addirittura il titolare di Fanogomme ha preso un gommone e si è messo a navigare sulla strada per evidenziare come il problema persiste. Addirittura Fanogomme è stata allagata moltissime volte, la seconda quest'anno. E poi vediamo che c'era mezzo metro d'acqua nei sottopassi, nei sottopassi anche quello della stazione, ma anche quello del ballato e il sottopasso di via Papini. Anche a Lido, dove è riproposto il problema, Piazzale Amendola si è allagata, poiché sono in corso i lavori di ampliamento delle caditoie per la ricezione dell'acqua piovana. Non essendo stati ultimati ancora questi lavori, l'acqua non è riuscita a defluire velocemente nella vasca e quindi ha stazionato per diverso tempo in tutto il piazzale. Poi piano piano con il passare del tempo è defluita e quindi la cosa è tornata a normalità. Comunque ci sono stati veramente tanti tanti problemi perché un'acquazione così intenso, così prolungato si è visto poche volte e poi ovviamente quanto è accaduto ha suscitato delle polemiche di carattere politico. Le vediamo qua in questo articolo di spalla con fondo azzurrino. Il sottopasso del Lido e Piazzale Amendola ancora sott'acqua serve un esposto alla Corte dei Conti e alla magistratura. Lo ha evidenziato Stefano Pollegioni, che è segretario dell'Udc, che insieme al direttivo del suo partito punta l'attenzione su via Pisacane. Si parlò anche su via Pisacane. Si parlò alcuni anni fa della costruzione di uno scolmatore per 7 milioni di euro, uno scolmatore che avrebbe dovuto ampliare le tubazioni che portano al depuratore di Ponte Metauro. In realtà questo non è stato mai fatto. Il progetto è rimasto sulla carta e ovviamente le alluvioni, gli allagamenti si ripetono. Proprio ieri anche i consiglieri leghisti, Ilari, Serfilippi, Magrini e Scopelliti hanno presentato una interrogazione per sapere perché l'impianto di Piazzale Amendola non funzioni e se è vero che sarebbero necessari altri lavori e altri fondi per la sua entrata in esercizio. A questo punto l'amministrazione comunale dovrà fornire le sue spiegazioni. Sembra che l'inclinazione sia talmente esigua, secondo poi gli esponenti di Forza Italia, da non permettere il deflusso regolare. Insomma qualche questione tecnica c'è in Piazzale Amendola perché le pompe non riescono a evitare gli allagamenti. Sì, fanno defluire l'acqua dopo che il Piazzale si è allagato, ma l'intento era quello di evitare appunto che il sottopasso di Viale Carducci e Piazzale Amendola si riempissero d'acqua. Vediamo le altre notizie. Il resto del Callino ci comunica che la Giunta ha approvato il progetto esecutivo dell'ampliamento della Biblioteca Federiciana, secondo appunto l'elaborato redatto da Mario Cucinella, uno dei grandi progettisti, dei grandi architetti a livello nazionale. E sembra che l'architetto abbia già pronto anche l'esecutivo, quindi nulla osterebbe che i lavori potessero essere attribuiti entro la data del 30 giugno che è il termine per consolidare il finanziamento del PNRR, 2 milioni e mezzo in confronti di 10 e mezzo che costa l'intero progetto, ma quegli altri devono essere trovati. In questo momento c'è in approvazione un emendamento di bilancio che prevede o il mutuo oppure finanziamenti che dovrebbero giungere dallo Stato, ma anche probabilmente da Terna, a compenso delle opere che sta svolgendo nell'Adriatic Link, ma questo poi è un altro discorso perché anche questo suscita delle proteste in modo particolare dai carraresi. E veniamo alla cronaca. Slot svaleggiate, ma i ladri erano i titolari del bar, avevano simulato un furto. Si tratta di una coppia di un campano di 68 anni e di un ucraino di 46. Ebbene, i titolari del Milky Coffee di Fano hanno simulato un colpo insieme a due presunti complici e sono quelli di cui ho parlato. La coppia è un uomo e una donna italiani di 48 anni. Nel frattempo è fuggita in Spagna. Aveva denunciato di aver subito un forto. In realtà le Slot l'avevano scassinate loro due. Ebbene, tutto è finito davanti al giudice che dovrà poi ovviamente dare la sentenza. Si tratta del giudice Andrea Piersantelli, il quale si è riproposto di emettere la sua sentenza il 12 luglio prossimo. E poi un articolo che riguarda la festa dei popoli. Siamo alla terza edizione di questa iniziativa organizzata dall'ufficio Migrantes, che è diretto da Don Sandro Messina, che è direttore a livello regionale. Una festa dell'integrazione, una festa dell'accoglienza. Fano, città accogliente, si mostra disponibile con tutte le sue associazioni di accogliere gli immigrati. È una festa che vuole eliminare ogni preconcetto nei confronti dei nuovi arrivati, li vuole stimare, li vuole apprezzare per quello che sono e soprattutto vuole valorizzare il confronto tra culture, che invece di essere oggetto di discriminazione dovrebbe essere oggetto invece di arricchimento per quanto riguarda i rapporti tra la comunità locale. La festa si svolgerà sabato prossimo, non più in Sassonia. In passato si svolgeva l'Anfiteatro Rastat, ma si svolgerà sotto la tensostruttura del Lido sabato prossimo. Ci sarà all'inizio della giornata, al mattino, un torneo di calcetto in Sassonia. Poi nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, balli, musica, giochi e all'ellido, ma anche momenti di riflessione. In modo particolare per quanto riguarda lo stato degli immigrati di seconda generazione nati in Italia, ma ancora privi della cittadinanza italiana. Parlano la nostra lingua, sono vissuti nella nostra cultura, ma ancora non hanno questo diritto per essere veramente cittadini italiani. E ieri si è svolto il consuntivo del Brodetto Fest, questa grande manifestazione che si è svolta per quattro giorni alla fine della scorsa settimana e che ha così dato l'inizio ai grandi eventi della stagione turistica fanese. Mezza tonnellata di vongole intitola il resto del Carlino e addirittura 10.000 brodetti serviti in tutti i quattro giorni del Festival, il Festival de Borda, questo è il verbo usato dal resto del Carlino, per dire come dai confini locali, dai confini regionali, è fuoriuscito a livello nazionale ma anche internazionale, perché è stato propagandato sia a Lisbona in occasione del Sea Food, che è una delle più grandi manifestazioni che a livello internazionale si svolgono nella promozione del cibo, e poi anche a Londra con l'aiuto dell'Istituto Italiano della Cultura. Sì, perché l'enogastronomia è veramente cultura, cultura del cibo, cultura della salute, cultura del mangiare bene e cultura anche dell'economia. E non sono state poche le iniziative realizzate all'interno del Brodetto Fest per quanto riguarda momenti interessanti dal punto di vista culturale, soprattutto per quanto riguarda il futuro della pesca. E a proposito del futuro della pesca, vediamo che c'è stata un'iniziativa dell'assessore alle attività produttive Etienne Lucarelli mentre si trovava a Bruxelles per presentare il nuovo manifesto del Carnevale 2024. In quella occasione ha incontrato due europarlamentari. Si tratta di Pietro Bartolo della Commissione Pesca e di Camilla Laureti della Commissione Agricoltura. Ebbene ha sensibilizzato i due europarlamentari per quanto riguarda il futuro della pesca fanese, ma oserei dire della pesca italiana, su cui incombono dei provvedimenti molto punitivi che si appresta a approvare l'Unione Europea, come per esempio la fine della pesca a strascico. I due parlamentari sono stati invitati a Fano per avere un confronto diretto con i pescatori, sentire le loro istanze e poi agire di conseguenza difendendo qual è questo settore importante dell'economia italiana. Ed ora giriamo la pagina e passiamo a terre roveresche. A terre roveresche si sta annunciando un programma veramente intenso, nutrito di manifestazioni. Un'estate da 30 elode, intitola il Carlino. Allestito il calendario degli appuntamenti, da qui a ottobre, l'assessore al turismo Patregnani, tanti altri progetti in via di definizione, oltre a quelli che già sono stati annunciati. E ne sono stati annunciati 30, 30 manifestazioni a cui si aggiungeranno a breve spettacoli per bambini, altri progetti in corso appunto in via di programma. L'ufficio degli artisti a Urciano con le rassegne Femart, percorsi ed ex tempora, scusate, e la pro art a piagge con Artesia e terre di Lubicaria. Sono questi sei appuntamenti che vengono posti in evidenza, ma poi ce ne sono tanti altri in questo articolo che vi invito a leggere. E poi c'è un problema che è stato evidenziato in occasione del concerto di Roberto Vecchioni. Alcuni esponenti del pubblico, degli spettatori, che cosa hanno fatto? Invece di prenotare il biglietto in prevendita, dove c'è appunto un costo aggiuntivo, si sono recati nella biglietteria al giorno dello spettacolo e hanno chiesto di pagare il biglietto senza ovviamente i costi aggiunti della prevendita. In realtà gli organizzatori hanno preteso che anche chi acquistava il biglietto sul momento dovesse pagare il costo aggiuntivo della prevendita e questo non appare affatto giusto. Ecco perché questo articolo si protesta. Si protesta nei confronti degli organizzatori e nei confronti di una prasse che veramente non si giustifica dal punto di vista del legale. Addio a Bianchini in cielo con i suoi Aquiloni è deceduto un esponente molto noto di questa festa a Urbino. Si tratta di Michele Bianchini, che qui vediamo ritratto con il suo Aquilone vinto nel 2011. Si terranno oggi funerali alle 15.30 in Duomo. È scomparso a 57 anni e qui si esprime il lutto della famiglia e degli amici. Un uomo di poche parole ma sempre ben dette, sensibile e sognatore di lui. Questo breve ritratto ma molto significativo. E poi a Urbino si protesta perché oltre a pagare il parcheggio si paga anche l'ascensore per chi non vuole sobbarcarsi la fatica di salire fino alla cima del colle, mentre in altre città è gratis. Ebbene il prezzo dell'ascensore addirittura è aumentato del 50%. Si pagava 50 centesimi, ora si paga addirittura un euro. Un euro che si aggiunge al costo del parcheggio perché il parcheggio è a pagamento. Si tratta dell'ascensore che collega Piazza Borgo Mercatale con Corso Garibaldi a Urbino. A Spoleto ci sono chilometri di scale mobili, di ascensori, tutti gratuiti che permettono di raggiungere il centro storico da tutti i parcheggi, i parcheggi e poi i parcheggi sono addirittura gratuiti. Ebbene poi uno addirittura raggiunge la sommità del colle più alto fino all'accesso dell'ultimo piano della fortezza al Bornozze. Così avviene in tante altre città simili ad Urbino, a Potenza, ad Anghiari, a Perugia, a Siena. A Urbino invece l'unico ascensore a disposizione dei visitatori, di chi parcheggia appunto a Borgo Mercatale, è a pagamento. E così oltre al parcheggio che non vuole fare le scale deve pagarsi anche l'ascensore a un euro. E questo insomma è motivo di proteste. Mi sembra che ci sia profitti, dicono i cittadini. Via dello sport è pericolosa, fate qualcosa. Pian di Meleto, alla protesta di Massimo Ballabene, per qualcuno è poco più di una rampa di lancio per testare le prestazioni del motore. Vediamo ora qualche notizia che riguarda Pesaro. La vediamo nella seconda pagina del resto del Carlino. Si parla di Movida, di una Movida però molesta. Un albergatore va all'attacco o il rumore diminuisce o io faccio causa. E ovviamente ogni tanto in estate sorge l'endemica polemica tra gli albergatori che vogliono un po' di silenzio per i loro clienti che vogliono riposare e invece la Movida, i giovani che d'estate vogliono divertirsi. E il caso di Paolo Campagnoli, titolare del mare, è l'hotel. Il tempo di aprire e subito sono iniziati i problemi. Ho pronto l'esposto da inviare all'ARPAM per le sue misurazioni, perché qui c'è un danno addirittura alla salute. E poi, se in centro comanda il degrado, residenti sotto scacco dai vandali, lancio di sassi, pareti imbrattate, grate e sollevate, in largo Mammiani, imperversa, una banda di minori. E vediamo qui gli effetti di quello che accade. Vediamo le colonne imbrattate da scritte, da disegni con la vernice nera. Poi abbiamo qui delle infrastrutture che vengono danneggiate e poi tutto quello che viene sporcato, divelto, distrutto. Vediamo qui delle grate sollevate, sono anche pericolose perché qualcuno potrebbe caderci dentro. Il Comune potrebbe mettere delle telecamere, così viene richiesto dai residenti. Del resto a essere danneggiato è anche l'ufficio anagrafe che appunto si trova in quella zona. Ed ora parliamo della festa dei carabinieri a cui è intervenuto anche il prefetto. Diluvio, militari decisivi sul fronte salvataggi, crimini, furti su del 18%. Numeri e raffronti dell'ultimo anno per quanto riguarda l'azione della benemerita. Forte la loro presenza per l'ambiente. Ebbene, sono intervenuti anche nel controllo delle discariche. Effettuate 1034 verifiche con 57 illeciti amministrativi contestati e sanzioni per 103.000 euro, 10 illeciti penali. C'è stata dunque tra il resuconto fatto dai carabinieri una impennata di furti più 18%, rapine, violazioni delle norme in tema di rifiuti con multe per oltre 100.000 euro. Abbiamo visto 103.000 euro. Sono questi i fatti clatanti di un anno di lavoro da parte dei carabinieri di Pesaro che ieri hanno festeggiato i 209 anni di fondazione dell'arma con una cerimonia. Alla presenza di alcuni studenti erano due classi di bambini della scuola elementare di Villa San Martino. Ebbene, una bella festa anche per un contatto ravvicinato tra i carabinieri e i bambini. E in questa fotografia vediamo molti sindaci con la loro fascia tricolore che sono presenti a questa cerimonia. Minaccia alla moglie. Dammi soldi o ti metto seminuda sui social. Un afgano imputato di tentata estorsione per la donna abituata a coprirsi con il burka. Sarebbe stata veramente una vergogna, ma erano sposati. Il reato non è punibile. Ebbene, per la religione islamica questo veramente sarebbe un sacrilegio. In realtà per la legge italiana questo almeno non è punibile in quanto è successo tra marito e moglie. Vediamo anche un altro articolo di cronaca. Graffia le parti intime del marito. Lui la denuncia per lesioni e si separa. Il processo però si è fermato. Lei ha risarcito i danni. Il coniuge ha ritirato la querela. Diamo un'occhiata ora al Corriere Adriatico dove si apre con la festa dello sport. Ne abbiamo parlato. La festa dello sport che si viene sabato prossimo sul lungomare del Lido a Fano. La terza edizione della manifestazione che opera per l'integrazione tra le varie etnie che ci sono installate in città. Sono tutte piene di ricchezza, di cultura, delle loro tradizioni che possono veramente arricchire anche il contesto locale. E poi abbiamo una ripresa di asfaltature. Di asfaltature da domani verranno avviati i lavori per l'asfaltatura di via Fossa Sant'Orso mentre nella settimana dal 12 giugno ci si sposterà su piazza del Popolo a Flaminio. Contemporaneamente verrà asfaltata la rotatoria di via Einaudi in pressi del Brico con traffico alternato. Poi il giorno dopo inizierà la stabilizzazione di via Meda e il traffico sarà interrotto solo per alcuni momenti garantendo il senso unico alternato per tutte le strade coinvolte. Misure contro il settore pesca invitati i due parlamentari. Li vediamo qui nella fotografia Camilla Laureti e Pietro Bartolo insieme all'assessore Etienne Lucarelli che li ha sensibilizzati per contrastare i provvedimenti che l'Unione Europea si appresta a prendere a Bruxelles. Vediamo poi a fondopagina l'articolo sul consuntivo del Brodetto, veramente una edizione straordinaria. E poi per quanto riguarda Pergola, l'anno della Pergola sportiva, un trionfo finale anche nel calcio. Conquistata la promozione nel centenario della società El Bollivola in Serie C. Noi chiudiamo i giornali con questa notizia, era l'ultima notizia, e vi do appuntamento come sempre alle 7 di domani. Grazie per l'ascolto, a risentirci.